Siamo in linea con la grande navigatrice Alessandra, vorremmo che lei ci dicesse qualcosa, però vorrei che ci si mettesse al sole così la luce migliore, si sieda lì e ti mandi un saluto, intanto lo mando solo a te, se vuoi lo metto online, però dimmi la tua impressione. Sono baciato dal sole. Ecco, la tua impressione di questa permanenza in barca? È stato bellissimo. Non dirlo così, che pensano che io ti abbia fatto qualcosa, non ho fatto niente, sono innocente. Cosa, no, l'esperienza di soggiornare a bordo? Beh, per il momento ci ho solo dormito. E non la percezione, siamo fermi, però insomma la barca si muove, non hai i pilastri che ti ancorano a terra. Si sta spegnendo. No, no, funziona, funziona. Eh? No, è particolare, è bello, è un modo di vivere diverso, veder le cose dal mare, è diverso dal vedere dalla terra. Guarda che questo fa vedere i tuoi nipotini poi, eh, se sei stato a bordo del grande brancaio, vi assicuro che non siamo a terra e per farlo vi faccio vedere dove siamo. Eccoci qua, Venezia, la laguna a sud, ecco, non male, va bene, da Bordo del Brancareon, saluti, Alessandra e Giacomo De Stefano, saluti, adesso te lo mando, e via.